Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale Torrette, Mercogliano, Avellino. Giovani cade da un'impalcatura per un'altezza di 3 metri in prognosi riservata. L'incidente sul lavoro si è verificato ad Aquilonia, al malcapitato e un trentenne di Bisaccia, che stava effettuando dei lavori di tinteggiatura in una struttura ristorativa di Aquilonia. Il ragazzo è caduto da un'altezza di circa 3 metri. Dopo essere stato soccorso da persone presenti sul posto, è stato trasportato all'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi e successivamente trasferito all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi per ricostruire l'esatta dinamica del grave incidente sul lavoro. E intanto prosegue l'azione dei carabinieri del gruppo forestale di Avellino, impegnati nel controllo del territorio, teso a garantire anche il rispetto della legalità sui luoghi di lavoro. Ancora troppo spesso scenari di incidenti a causa del mancato rispetto delle normative e delle procedure di sicurezza. Nell'ambito di tali verifiche, a Summonte i carabinieri della locale stazione hanno denunciato sette persone. In particolare, all'esito del controllo effettuato in un cantiere forestale, i militari hanno accertato la mancata redazione del documento di valutazione del rischio da parte del titolare dell'impresa boschiva di Montella, accertando che sei dipendenti non indossavano i prescritti dispositivi di protezione individuale, risultati regolarmente consegnati dal datore di lavoro. Alla luce delle evidenze, sia nei confronti del titolare dell'impresa che dei sei dipendenti, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino.